Sfogliamo proprio le pagine che i giornali ci danno, perché ieri è uscito il messaggio di Papa Francesco a proposito della giornata del migrante e del rifugiato che ci sarà a settembre. Apriamo questo capitolo, lo facciamo con Nello Scavo, che dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno Nello. Con te, lo diceva Giacomo, vogliamo aprire la pagina di attualità dedicata ai migranti, anche partendo dal messaggio di Papa Francesco, ma soprattutto partendo dall'attualità che questi giorni ha riempito le pagine dei giornali. E soprattutto quella seconda frase, sia una scelta, non una necessità. Papa Francesco ha chiesto ai popoli tutti, ai governanti tutti, che si mettano in pratica delle azioni per cui lasciare la propria casa deve essere solo ed unicamente una scelta e non un motivo di necessità. Sì, sì, è così, è così e va detto che il Papa ci aiuta a ricordare l'altra parte, diciamo, della conseguenza. La conseguenza è che la maggior parte delle persone che si spostano lo fanno per necessità e non per scelta. E proprio per questa ragione bisogna abbattere i muri, creare condizioni di accesso regolare, quindi di trasferimento regolare delle persone, anche per sconfiggere il mercato della carne umana su tante rotte. Il Papa, dall'altro, dice una cosa in più, invita le comunità a riconoscere nel migrante il volto di Cristo. E questa è una spinta importante, tanto per le comunità cristiane, ma direi anche per le comunità politiche, che non hanno mancato neanche ieri di strumentalizzare il messaggio del Papa. Ed è un tema di cui si parla ormai spesso, si parla da tempo e si parla particolarmente negli ultimi tempi a proposito dello stato di emergenza. Sì, è proprio così. A me fa sorridere amaramente ogni volta che sento la parola emergenza, perché non sono un ragazzino, ma non credo di aver vissuto un solo giorno della mia vita senza che qualcuno dicesse che c'è un'emergenza migranti. La verità è che nessuno vuole affrontarla fino in fondo. Noi pensiamo al caso recente del Sudan. Nel Sudan ci sono centinaia di migliaia di persone che si stanno spostando. Più di 200 mila potrebbero entrare in Libia. In tutti questi anni, paesi come l'Italia e l'Europa hanno finanziato una milizia sudanese con il compito di svolgere il lavoro sporco, e cioè di fermare i migranti in Sudan prima che entrassero in Libia. Solo che nel frattempo questa milizia si è trovata con armi in mano, equipaggiamento, addestramento e anche qualche soldino e ha deciso di dare l'assalto a Khartoum, facendo scoppiare una nuova guerra in Sudan che sta facendo spostare almeno 800 mila persone. E questo aumenterà anche il flusso migratorio verso l'Europa. Poi dopo, nell'ambito politico, ci raccontiamo che c'è un problema di accoglienza, la chiamiamo emergenza, però il messaggio del Papa ci riporta anche alle origini di che cosa accade, di un'economia di rapina, della colonizzazione economica e di tutto ciò che non si dovrebbe fare. Invece si fa, salvo poi lamentarsi del fatto che ci troviamo sotto casa con un certo numero di persone che chiede aiuto. Nello, ci sospendiamo solo per qualche istante. Andiamo in pubblicità e dopo la pubblicità ripartiamo da qui, da quell'emergenza che, di fatto, emergenza più non è e da come in qualche modo si sta provando a mettere in campo delle nuove soluzioni che poi scopriremo, forse insieme a te, che tanto nuove non sono. Ne parliamo però dopo la pubblicità. Liberi di scegliere se migrare o restare. Questo è il tema del messaggio che Papa Francesco ha lanciato per la giornata del migrante e del rifugiato che si terrà a settembre. Stiamo parlando dell'attualità, lo vedete con Nello Scavo collegato con noi. Ci siamo lasciati sul decreto Cutro. Nello, che cosa prevede, che cosa cambia? Diciamo che quando ci sono queste misure, queste novità legislative, gli interrogativi sono sempre molti. Il decreto prevede tutta una serie di misure che, in teoria, dovrebbero regolare l'accesso dei migranti nel nostro Paese. Soprattutto mette in discussione il tema della protezione internazionale, che è stato anche uno dei cardini del sistema di accoglienza e che ha permesso anche di limitare sacche di irregolarità. Ma bisogna dire che non chiarisce tutta una serie di aspetti che riguardano il tema del soccorso in mare, che è poi la questione centrale. Ricordiamoci che l'altro ieri c'è stata un'operazione di polizia importante in Calabria che ha permesso di individuare una serie di trafficanti siriani, turchi, in collegamento con anche malavitosi italiani, che si occupano della gestione di questo fenomeno. Allora, questi decreti in realtà finiscono per non regolare l'accesso legale delle persone, alimentano semmai l'irregolarità, ma soprattutto alimentano una cultura, direi, della disaccoglienza, utilizzando un termine che riesce a farci capire verso quale direzione si sta andando. Non bisogna dimenticare un altro aspetto. Io vi do una notizia, se volete, in anteprima. Questa notte il procuratore della Corte Penale Internazionale ha firmato il nuovo rapporto investigativo sulla Libia e ci sono accuse fortissime, durissime, alle autorità internazionali, compresa l'Italia, per la gestione di questo fenomeno. E cioè, tutta una serie di scelte politiche, volutamente e o si spera in maniera inconsapevole, ma ormai dopo tanto parlare, documentare, è difficile parlare di mancata consapevolezza, alimentano il traffico di esseri umani, il ciclo delle torture, degli abusi, degli stupri. Il decreto culto non ha affrontato questi temi. Perchè questa cosa sia chiara? Spieghiamo che cosa significa questo. Ovvero, ciò che tu ci hai detto prima, quello che spesso viene definito aiutiamoli a casa loro, di fatto si traduce in sovvenzionare magari quello che potrebbero essere considerati aiuti sul territorio, che invece poi, come ci hai spiegato, diventano milizie armate o addirittura torture verso coloro che stanno migrando e si trovano a transitare in quei paesi. Esattamente così, perché dal momento in cui decidiamo di delegare altri del sistema di accoglienza, e lo dico sorridendo amaramente, e non ti assicuri che questi altri che tu stai delegando, stai legittimando, stai finanziando, equipaggiando, addestrando, rispettino i diritti umani fondamentali, e poi diventa un problema anche per te, perché arrivano delle persone che evidentemente hanno anche un passato, un trascorso di violenza subita, che si ripercuoterà a lungo nella testa delle persone e anche nelle comunità che si spostano. Non è un caso, tra l'altro, che la maggior parte dei migranti che arrivano in Italia non vogliono neanche fermarsi in Italia. Sapete che recentemente tutto questo è connesso, ad esempio, al dibattito che vi è stato, alla polemica tra Francia e Italia, una polemica violenta, fuori luogo, fuori tono da parte della Francia. Però l'impressione che abbiamo è che ogni volta sulla vita, sulla sorte di queste persone, si giochino altre partite, fondate anche sul consenso politico. Ripeto, la lettura di questo rapporto del capo della Corte Penale Internazionale, che noi di solito applaudiamo, osanniamo in qualche modo, quando si tratta di emettere un mandato di cattura contro Vladimir Putin, e poi magari facciamo finta di non accorgersi che cosa dice a noi riguardo alla gestione del fenomeno migratorio. Un esame di coscienza credo che servirebbe prima o poi anche proprio per andare nella direzione suggerita da Papa Francesco, che è quella di accogliere con umanità e dignità, ma soprattutto piantarla, di utilizzare questi territori come fossero il cortile di casa, dentro cui andare a rubacchiare qualcosa, con la conseguenza che poi gli esseri umani da lì se ne vanno. E quel messaggio teniamolo presente, teniamolo come bussola, non solo fino al 24 settembre, ma anche oltre. Nello Scavo, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi.